Siamo con Mr. Andrea Cardillo, nuovo allenatore della Virtus Fondi Calcio 5. Mr., dopo tanti anni in cui ha sfiorato la Piazza Fondana, alla fine ce l'ha fatta. Quali sono le sue sensazioni appena approdate in questa, possiamo dire, per Fondi gloriosa società? Allora sì, in effetti gloriosa, le sensazioni sono molto positive, sembra di essere capitato in una società professionistica, ho avuto modo adesso di controllare tutto il palazzetto, le varie attrezzature che abbiamo e sembra di essere in una società professionistica, peraltro è una società dove già è passato Mr. Rosigna, quindi diciamo che sono caduto molto molto bene. Poi Fondi, una società come la Virtus, una società molto molto blasonata, una società in cui nella provincia di Latina penso che è tra le più accreditate, è una società molto seria, storica, quindi sono veramente felice e veramente onorato di essere stato contattato dal presidente del Ginevro e dal direttore sportivo. Benissimo, la nostra domanda è più una curiosità in questo caso, cosa l'ha spinta dopo un anno di calcio a 11 a tornare al suo primo e vecchio amore calcio a 5, così possiamo chiamarlo? Ho voluto provare questa esperienza in un campionato di promozione a Minturno perché mi è stato chiesto un aiuto sia dall'autorità politica sia da un gruppo di sportivi. Ho visto però che purtroppo adesso il calcio a 11 è molto molto lontano dalle mie idee, purtroppo ci sono troppi interessi economici, girano troppi soldi, ci sono troppe persone non correttissime, ecco se vogliamo usare un economismo, non correttissime, quindi ho preferito ritornare nel calcio a 5 dove l'ambiente è un po' più genuino, un po' più sano, un po' più familiare. Benissimo, invece adesso volevo chiederle, lei l'abbiamo comunque vista nel corso dell'anno girare sui vari campi della provincia, quindi non si è mai realmente staccato dal futsal, soprattutto quello di zona, ecco ha già avuto modo di scorrere un po' la lista dei nomi che faranno parte della Virtus Fondi 2017-2018, che idea si è fatta, secondo lei dove può arrivare questo gruppo? No, questo è presto, adesso dobbiamo, so che il direttore sta lavorando benissimo e lacrimente tutti i giorni per allestire un roster di qualità. Se dovesse portare a termine i colpi che mi ha detto poco fa, che mi ha pronunciato, io penso che comunque per il blasone che rivesta la società, noi comunque giocheremo, parteciperemo a un campionato per cercare di stare ovviamente nelle prime posizioni. Poi si può vincere, si può perdere per un punto, però penso che il blasone della Virtus Fondi imponga un campionato di alto livello. Ok, mister, allora non resta che farle un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura e ovviamente ci rivedremo nel corso della prossima stagione perché non ci scappa adesso che qui a Fondi. No, sicuramente, sempre a disposizione. Sono, ripeto, sono onorato di essere approdato in una piazza come Fondi, poi mia moglie di queste parti quindi è stata ancora più contenta, può tornare settimanalmente a trovare i suoi parenti. Alla fine decidono sempre le mogli. Alla fine sì, grossomodo sì. Non vale solo per i giocatori. No, no, assolutissimamente no. Chi comanda in casa è sempre la moglie, però sono veramente soddisfatto e contento di essere approdato alla Virtus Fondi anche per il blasone degli allenatori che mi hanno preceduto. Quindi sono onorato e non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura e sperando che possiamo festeggiare qualcosa di importante alla fine del campionato. Grazie mille, mister. Grazie a voi.